Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Anche nelle camerate i ragazzi si dedicano ad attività ricreative tipiche del passato, come tirare due calci al pallone, praticare la nobile arte dell'equitazione o strimpellare uno strumento musicale e rimanerne folgorati. Il vecchio ordinamento ha ripristinato delle elezioni che noi, giovani degli anni 60, seguivamo con grande interesse, come l'economia domestica. La maglia è come la vita, bisogna saper stare in equilibrio. Se si tira troppo il filo, non passa. Se si tira troppo poco, si smolla. Queste cose come i due di l'età non le fanno più la gente come noi, le fanno i vecchi. Eppure c'è anche chi, alla materia, sembra essersi appassionato fin troppo. Ora il filo, poi il giro. Bravissimo. Poi scivolo. Così. È sbagliato. Non ho ancora capito, però adesso piano piano imparo. Io e Marietto parliamo tanto. Siamo completamente due mondi diversi, però stiamo bene insieme. Tra i banchi di scuola possono nascere dei momenti magici, ma è solo con la complicità del buio che gli spiriti possono scatenarsi davvero. Magari giocando a dei classici senza tempo. Un gioco in cui delle verità non frega mai niente a nessuno, mentre gli obblighi vanno tutti in una direzione. Grazie.